Ci sono dei palermitani che nei loro volti esprimono tutto il desiderio di fare questa salita perché hanno qualcosa da chiedere, da domandare, anche a loro stessi. È proprio un deserto personale e questo è fondamentale perché i palermitani sono sensibili a questa giornata che come un pannello solare li ricarica. Noi respiriamo un'aria molto particolare, ci sono occhi tristi, ci sono occhi più lucenti e noi cerchiamo di condividere la nostra gioia. Ecco perché l'arte durante il percorso deve anche un attimo alleggerirti, rallegrarti. L'ho vista un sacco di persone, anche che non sono proprio cattolici, ma vengono a fare la Chiata di Santa Rosalie e quindi si sono riconvertiti, si sono convertiti, non lo so, quello che è. Però questa piramide che si fa tutti verso Santa Rosalie, lo facciamo da tantissimi anni ormai, da secoli, insomma è una cosa che è positivissima e sta prendendo sempre più campo. Io da un paio di anni vedo che ormai anche i ragazzini, i bambini, insomma sono portati verso questa conoscenza di questa santa che abbiamo a Palermo. Siamo circondati da gente nemica della contentezza, caro direttore, un'epoca dove tutti siamo arrabbiati per mille questioni, dove tutti si scannano sui social e fuori dai social, secondo me il sorriso è quello che dobbiamo cercare e di cui dobbiamo riappropriarci. Io questo chiedo stasera a Santa Rosalia.